Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità da oggi lavori serali e notturni sulla corsia laterale di Viale Trastevere nel tratto tra piazzale Flavio Biondo e piazza Ippolito Nievo. Le linee 3 H 170, 719, 781 e di notte N8 transiteranno e fermeranno all'interno della corsia trambiaria Sempre nelle ore di cantiere il tramotto sarà sostituito da bus Il cantiere è attivo nelle ore serali e notturne dal lunedì al venerdì Le altre notizie, il 19 novembre sarà domenica ecologica, previsto lo stop al traffico privato con alcune deroghe nella fascia verde dalle 7.30 alle 12.30 e poi dalle 16.30 alle 20.30 Aggiornamenti e dettagli saranno disponibili su romamobilita.it